Nel momento in cui l'insegnante stava entrando in classe per fare la sua lezione di italiano, improvvisamente la finestra vasistas dell'aula, che era naturalmente stata aperta per il cambio dell'aria, si è staccata, è venuta giù. Il bambino, l'alunno, era seduto tranquillamente lì, proprio sotto la finestra e quindi ha ricevuto un colpo piuttosto forte. Lo studente, ferito lievemente, è stato portato all'ospedale Mayer di Firenze per accertamenti. Poteva andare decisamente peggio questa mattina alla scuola media Paolo Uccello, in zona via Pistoiese, dove una finestra è caduta improvvisamente colpendo un ragazzo di 13 anni. Si tratta di un infisso vasistas in vetro e alluminio, modello che si apre inclinandosi reggelmente verso l'interno, non come le classiche finestre. Infatti, proprio per motivi di sicurezza, viene impiegato nelle scuole per evitare cadute accidentali. Ma stamattina uno dei sostegni ha ceduto e la finestra ha colpito il 13 anni sulla spalla, ferendolo lievemente. Ragazzino che insieme alla botta lieve ha rimediato soprattutto tanto spavento. Non ha avuto né vuoti di memoria, né sbandamenti, niente che potesse far pensare a qualcosa di grave, quel colpo fosse stato veramente preoccupante. Pochi minuti dopo, sul posto, oltre all'ambulanza, sono intervenuti i tecnici del comune, ente proprietario e responsabile della scuola, che hanno individuato la causa dell'incidente. Una struttura fino ad oggi sicura, dice l'assessore comunale all'istruzione, Rosa Maria Di Giorgi. Questa è una scuola che non ha particolare bisogno di interventi, quindi dal punto di vista della manutenzione noi ritenevamo che fosse tutto a posto. Naturalmente non è così, perché una finestra non deve venire giù, quindi niente, abbiamo attivato tutti i controlli.